Qual è il pericolo? Che se una regione d'Italia che ha questa situazione epidemiologica assolutamente non tranquillizzante, perché se ancora oggi fai mille contagi al giorno non è che hai messo alle spalle il problema dell'epidemia, se una regione oggi accelera in maniera non responsabile e non coerente con i dati del contagio rischia di rovinare l'Italia intera. Per essere chiari con un esempio, se dovessimo avere una corsa in avanti da parte di regioni nelle quali abbiamo ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini, cioè faremo un'ordinanza con la quale vieteremo l'ingresso in Campania di cittadini provenienti da regioni nelle quali il contagio è pienamente in corso. Non potremmo fare diversamente.